Due anni dopo l'inizio della pandemia lo stato d'emergenza non sarà rinnovato, lo ha annunciato ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto la Fondazione Gimbe rende noto i dati dell'ultimo monitoraggio. In Molise nella settimana 16-22 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 2.212, e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, meno 22,2% rispetto alla settimana precedente, sopra soia di saturazione i posti letto in area medica, 15,3%, e in terapia intensiva 10,3%, occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'84,7%, media Italia 83%, a cui aggiungere un ulteriore 2,9%, media Italia 2,4%, solo con prima dose. Infine l'ultimo bollettino, Aserem 301 contagi su 1947 esami refertati tra molecolari e antigenici, tasso di positività al 15,4% e ancora un decesso, una donna di 81 anni di Campobasso che era ricoverata in anziano fragile. Due dimessi, un ricovero in contrada, tappino, i degenti sono 26,3% in terapia intensiva.